Benvenuti tutti, io sono Fabrizio Croce, responsabile Sud Europa per quanto riguarda WatchGuard. Questo webinar vi parlerà della modalità di vendita delle nostre appellazioni di sicurezza, dei nostri servizi di sicurezza in modalità servizio, quindi la modalità da noi chiamata MSSP che significa Manager Security Service Provider e quindi la vendita della sicurezza come un servizio. Molti di voi conosceranno WatchGuard, qualcuno no, mi permetto di fare 10 minuti di introduzione sul nostro brand per capire chi siamo, cosa facciamo e in che modo le macchine possono essere gestite e vendute. WatchGuard è un'azienda che ha ormai 22 anni di vita, siamo 700 persone distribuite in 15 nazioni con 5 uffici regionali. L'azienda è americana ed è un assoluto market leader per quanto riguarda tutti i servizi di sicurezza perimetrale. In Italia è uno dei 5 uffici mondiali, il nostro sito è a Parco dei Medici dove abbiamo un team di 12 persone tra tecnici e commerciali. Diamo diretto supporto locale in lingue italiane, questo è molto importante, curiamo circa 12 mila clienti in Italia, principalmente ma non esclusivamente Small Medium Business e Media Enterprise con 300 clienti nella pubblica amministrazione locale. Lavoriamo ciclicamente con 600 rivenditori, noi lavoriamo sempre solamente in modo indiretto tramite distributori valori aggiunti e rivenditori, di questi rivenditori i 180 sono certificati col programma di canale WatchGuard One e siamo in assoluto il primo vendor di security in italiana per il settore delle PMI. Qual è la nostra mission? È dare senso alla cyber security, vale dire fornire la sicurezza più intelligente possibile ma nel modo più semplice possibile, quindi protezione intelligente con una serie di servizi e tecnologie che permettono di avere una protezione efficace contro il massimo numero possibile di minacce informatiche, una gestione semplificata in quanto siamo consci che la gestione di un sistema di sicurezza può essere complesso, calato poi in un ambiente magari di piccole e medie aziende questa complessità aumenta e quindi è necessario fornire dei sistemi di management molto semplici per i nostri utenti e di avere una visibilità di quanto stia succedendo nel network, quanto stia succedendo a livello di sicurezza in maniera di identificare e di reagire in maniera proattiva alle minacce. noi crediamo nel valore dell'UTM quindi un unico singolo apparato nel quale all'interno ci sia la più ampia possibilità di combinare servizi di sicurezza indispensabili sempre con l'ottica della soluzione facile da installare e gestire, meno apparati quindi configurati solo la prima volta e gestiti centralmente. Forniamo di servizi di sicurezza assolutamente best in class i servizi di sicurezza fondamentale che sostanzialmente più o meno tutti hanno, intrusion prevention, spam filtering, getto antivirus, web filtering, application control, ampliati poi con dei servizi di sicurezza avanzati studiati per il blocco delle minacce zero day, per il blocco dei ransomware e per tutte quelle minacce dove un antivirus non è in grado e i sistemi basati su firme non sono in grado di agire. Quindi il blocco dell'APT, il Trader Detention Response per la protezione del linepoint grazie anche alla tecnologia HRP che blocca i ransomware nel momento in cui cercano di criptare dei dati, servizi di data loss prevention, network discovery per fare una mappatura e una enumerazione della rete molto utile nel caso di reti IoT, dimension command che è la parte di gestione di dimension, il nostro software di reportistica, di analisi del rischio e ultimo, ma non ultimo, è arrivato recentissimamente e già molto molto apprezzato, il DNS Watch che è un sistema che va a verificare se l'eventuale sito dove siete stati dirottati è un sito che è stato rubato per fare del phishing. Una piattaforma unica, tutti i prodotti sono uguali, sono molto facili da acquistare e da vendere, sono molto facili da installare e da gestire, tutto è incluso insieme in maniera gratuita, il management, il reporting e il risk analysis è completamente gestito all'interno delle nostre appliance tramite il software che attualmente si chiama Dimension. Le macchine sono fornite in tre modalità, una modalità che qua non è riportata ma è la modalità di base senza nessun servizio di sicurezza, solo per la maintenance, normalmente utilizzato quando devo implementare un clustering e poi le due modalità reali su come vengono vendute le macchine, la base security suite che integra tutti i servizi di sicurezza di base e la total security suite che estende questi servizi di sicurezza base con i servizi di sicurezza avanzati per il blocco delle minacce avanzate, zero day, ransomware eccetera eccetera. Questi servizi di sicurezza poi si appoggiano sia su una gamma scalare di macchine hardware, si va dalle più piccole, le macchine T che sono le macchine da tavolo, alle macchine medie, le macchine M, le macchine direct, fino ad arrivare alle macchine più grandi da azienda enterprise, il 4600 e il 5600. molto vagamente, ma è un discorso, ripeto, non perfetto ma perfettibile, il numero dopo la lettera identifica il numero massimo di utenti supportabili, questo però non è vero nella misura in cui bisogna vedere cosa fanno gli utenti, però dà una vaga idea di come questi apparati possono essere segmentati a seconda del tipo di clienti. Oltre alle macchine hardware abbiamo poi una generazione di macchine virtuali e di macchine cloud che adesso vi illustrerò. Le macchine virtuali sono macchine che si installano in ambiente Microsoft, Hyper-V e VMware, si installano all'interno dei server come macchina virtuale aggiuntiva, si collegano al virtual switch e consentono di andare a fare azioni di firewall non solo da interno verso l'esterno ma anche all'interno stesso del server proteggendo il multitenancy. L'altra soluzione è la soluzione cloud che abbiamo introdotto da poco, che permette il deployment di un firewall WatchGuard in cloud privato Microsoft Azure oppure AWS. In questa maniera il vostro cloud privato è protetto, vi potete collegare al vostro cloud privato con il vostro firewall a domicilio del vostro ufficio con una rete criptata e quindi tutto il traffico sia sulla rete pubblica internet, poi quello utilizzato all'interno del cloud privato e in modalità criptata e protetta. Le macchine come si gestiscono? Si possono gestire sostanzialmente in due modalità, una è la modalità tra virgolette vintage, la chiamo così ma è quella assoluta più utilizzata, che è il Watch Car System Manager, un applicativo che gira in ambiente Windows con diverse finestre, le quali sono sostanzialmente delle applicazioni che permettono innanzitutto il monitoraggio di quello che stia avvenendo e poi una gestione vera e propria di tutto quello che è l'albero delle policy, la loro creazione, la gestione di tutta la parte di networking, eccetera, eccetera, eccetera. Una seconda modalità è usare la web interface, tutti gli apparati ci si può collegare in web interface HTTPS e qui abbiamo un'interfaccia che fa sostanzialmente quello che fa il WSM, ma in ambiente innanzitutto web, quindi magari anche più gradevole dal punto di vista dei grafici e di quello che viene visualizzato, ma con il problema classico, che è quello che lavoro online sulla macchina, mentre col WSM io lavoro offline. Anche qua all'albero delle policy, come vengono gestite, si possono gestire e così via. On top al sistema di management vi è il software di visibilità e di risk management, che è dimension visibility e command. Con dimension visibility io ho una serie di dashboard che mi analizzano sia in tempo reale sia a posteriore, quindi in maniera forense, tutto quello che è successo a livello di sicurezza e networking dalla mia rete verso internet e viceversa. Posso fare dei drill down molto specifici, andare a vedere anche il singolo evento, il singolo traffico di ogni singolo utente, posso vedere la geologizzazione, posso avere grafici di utilizzo di traffico, posso avere l'analisi delle policy per vedere i flussi di traffico dall'interno all'esterno della mia rete, su quali policy vanno a impattare e se sono permessi o se sono bloccati. Dimension visibility, come vi ho accennato prima, è un motore web il quale, attingendo al database, al log del nostro firewall salvato in ambiente virtuale, mi consente appunto di avere tutta una serie di immagini e di report per la gestione del rischio, la gestione del traffico, l'identificazione dei rischi, l'analisi dei flussi di traffico verso quali policy sia a livello di traffico reale in byte, sia a livello di applicazioni e all'analisi appunto dei malware bloccato, da quale provenienza arriva, grafici sulle performance della macchina e, cosa molto importante, la geolocalizzazione del traffico sia a livello di semplice utilizzo di traffico, sia a livello di provenienza di eventuali minacce con la possibilità di bloccare una nazione che in quel momento magari sta eseguendo degli attacchi. La parte di command di Dimension è una parte opzionale e sotto licenza e consente di cominciare a vedere una gestione centralizzata delle macchine WatchGar dall'interfaccia di Dimension. Una cosa estremamente importante, ormai mancano pochissimi giorni, vi ricordo e vi straricordo come le macchine WatchGar siano conformi al GDPR e vanno a coprire 16 dei 20 controlli critici dettati dal Science Institute. Quello che non copriamo sono cose che non c'entrano col firewall, quindi la capacità di recupero dei dati, un disaster recovery, normalmente associato ai database e ai sistemi di storage. Valutazione delle competenze di sicurezza, questo è training, risposta a gestione degli incidenti, questo è procedura, test di penetrazione, questi sono dei pentest che vanno eseguiti esternamente, ma tutto il resto che riguarda la sicurezza perimetrale è assolutamente conforme con le macchine WatchGar, qualunque macchina WatchGar, dalla più piccola fino alla più grande, a patto di montare la Total Security, quindi avere delle macchine con la Total Security. Ultima informazione importante su WatchGar è l'apertura di WatchGar verso tecnologie di terzi, negli ultimi anni WatchGar si è aperta, abbiamo accordi di integrazione con tantissimi partner tecnologici, cambiano e aumentano di giorno in giorno, quindi vi consiglio di andarli a vedere in TechPartners nel nostro sito, avrete l'elenco e le istruzioni di come andare a integrare diversi vendor con la tecnologia di WatchGar. Bene, fatto questo piccolo cappello introduttivo su quello che è WatchGar, andiamo ora a vedere il clou della presentazione, che vuol dire vendere i prodotti WatchGar in modalità Service Provider. Io posso creare una rete di macchine WatchGar e gestirle incidentalmente, assolutamente sì, lo si fa con il WatchGar System Manager, è già predisposto per quello, basta comperare licenze aggiuntive, io posso gestire da una a X macchine in maniera assolutamente diretta, compero la macchina con uno o tre anni di Total Security, Base Security, la vendo al cliente, dopodiché da remoto io mi posso collegare a queste macchine in maniera contemporanea, in maniera singola e gestirle, non cambia nulla, ma l'MSSP introduce uno step intermedio che è quello di gestire i servizi delle macchine non con archi temporali di uno o tre anni, ma con archi temporali mensili, basandoci sul pay per user, quindi il macchina consumerà un ammontare di denaro sotto forma di punti a seconda di quale servizio gli è stato associato. Quindi è un sistema basato su dei punti prepagati a scalare invece di comprare o vendere servizi a uno o tre anni. Il partner acquista dei prodotti solo hardware, assolutamente vuoti, non hanno nessun servizio all'interno, detti in versione MSSP. Qualsiasi hardware, sia fisico che virtuale oppure cloud, sono assolutamente a basso costo perché io pago solamente il nudo hardware e attiverà il bundle di servizi richiesti assegnando i punti, automaticamente verranno assegnati i punti che si consumeranno su base mensile a seconda del bundle prodotto. Questo cosa comporta? Comporta un cambiamento radicale del modello e del flusso di denaro. Innanzitutto ho un fattorato ricorrente e il modello OPEX anziché CAPEX basato sui servizi anziché su capitale. Ho dei punti on demand che non scadono mai, caricati in una particolare dashboard, posso mettere in pausa o far riportare un qualsiasi prodotto ed è un investimento distribuito. Quindi il partner fornirà ad esempio a un suo cliente una macchina, gli farà pagare un ammontare mensile, un canone invece che vendergli la macchina e non venderlo più per tre anni. Il programma WatchGarOne MSC Partner si basa innanzitutto sul programma WatchGarOne, quindi il partner per diventare un partner MSSP deve innanzitutto essere almeno un partner WatchGarOne Silver, quindi aver fatto i corsi, aver preso le certificazioni ed essere inserito nel nostro albo dei partner WatchGarOne. A quel punto può richiedere di diventare un partner MSSP che non ha assolutamente nessun costo, nessun particolare vincolo, gli viene assegnato lo status e può iniziare a lavorare anche come partner MSSP. Il programma dà una serie di risorse a disposizione, quindi ovviamente avrete la possibilità di avere un'opzione di pagamento flessibile, sicurezza on demand, train avanzati a vostra disposizione, risorse, strumenti, support eccetera eccetera. Il prodotto, come vi dicevo prima, è il prodotto bianco ma il quale viene gestito con tutto quanto vi ho fatto vedere prima con gli strumenti WatchGarOne e in più possibilità di upselling grazie all'integrazione con soluzioni di terza parte di WatchGarOne che si va appunto a integrare ad esempio con i più comuni tools MSSP. Mettiamo a disposizione poi del nostro partner tutta una serie di risorse marketing che lui può utilizzare per convincere il suo cliente finale della bontà di acquistare un servizio di sicurezza rispetto a un apparato e a un ammontare fisso annuale o triannale. Come si fa a diventare WatchGarOne MSSP? Si va sul sito WatchGar, nell'opzione reseller c'è l'opzione MSSP, io posso registrarmi e si verrà contattati da un nostro funzionario commerciale che vi spiegherà ovviamente i pregi di questo programma, verranno verificati i requisiti e vi verrà quindi dato lo status MSSP e in quel modo attivato il portale di gestione che vi farò vedere dopo. Una volta che viene attivato il portale di gestione avrete a disposizione una dashboard nella vostro partner portal il quale vi permette la gestione dei punti delle macchine che avete comperato in versione MSSP. Con la dashboard voi avrete la visibilità in tempo reale dei punti disponibili, l'andamento pensile del consumo dei punti, cosa è previsto utilizzerete di punti il mese successivo quindi vi darà la differenza quindi quanti punti sono necessari che dovete comperare, se è a zero siete a posto non dovete comprare niente, se no vi dice quanti punti in quel momento dovreste comprare per non andare in shortage. Si possono configurare allarmi, notificazione sui punti disponibili, allocazione per tipo di servizi, total security, basic security, l'utilizzo dei punti quindi statistiche di andamento trimestrale e il management di tutte le macchine che avete caricato nel vostro portale e che avrete dato ai vostri clienti. Nell'accaricamento delle macchine e l'attivazione delle macchine li potete associare un nome di un cliente quindi in maniera molto semplice puoi andare a trovare tutte le macchine dette di un certo cliente, potete esportarlo in un particolare, in un report CSV quindi potete vedere, in questo caso ce ne sono poche ma immaginate un grande service provider che ha mille macchine diventa ovviamente necessario anche una funzione di esportazione per un eventuale lavoro offline. Con la gestione dentro il portale MSSP command ultimamente lo abbiamo migliorato parecchio, l'usibilità è stata migliorata ed è poi come vi dicevo prima anche attivata la possibilità di esportare della reportistica. Nella parte settaggio io posso andare a abilitare e disabilitare degli allarmi, mettere delle soglie per invio di allarme per cliente e punti rimanenti e la gestione appunto di chi deve ricevere queste mail di allarme. Come funzionano i punti propagati? Bene, innanzitutto l'apparato MSSP acquistato in WatchCard è vuoto, non ha nulla, io lo attivo dentro il mio portale partner MSSP e di default non ha nessun servizio e quindi è fermo, non consumo punti. Vado ad aggiungere i miei punti MSSP che ho comperato sempre da WatchCard e una licenza che carico all'interno del portale MSSP e mi vengono aggiunti i punti che ho comperato, che a questo punto posso decidere di dividere e frazionare su più macchine di diversi clienti. I punti vengono dedotti mensilmente basato sulla suite di servizio che io sono andato ad attivare su quella specifica macchina, quindi io posso decidere che questa macchina questo mese è total security, il prossimo mese è base security, tra tre mesi uno standard support e poi tornare a total security e così via. È assolutamente flessibile. Ricordatevi che i punti non scadono mai e possono rimanere nel portale quanto vi pare. Gli apparati MSSP sono tutti gli apparati WatchCard, a breve verranno introdotti e inseriti anche gli access point wireless, quindi tutta la gamma di prodotti WatchCard sarà disponibile in formato MSSP. Facciamo un esempio. Immaginiamo di aver comprato 50.000 punti, vado a comprare questi 50.000 punti, li attivo dentro il portale MSSP e mi compaiono come 50.000 punti, che posso a questo punto andare ad applicare all'opzione di servizi disponibili per ogni dispositivo e quindi andrò a attivare degli apparati in modalità total security, base security e così via. Vengono detotti i punti che verrebbero utilizzati in quel mese in maniera prorata, quindi se è dal primo del mese tutto il mese, se è da metà del mese metà mese e quindi i miei punti rimanenti da 1000 vengono a diventare 304 perché mi vengono dedotti i punti che io ho caricato. I servizi vengono automaticamente rinnovati mensilmente, quindi se non faccio niente automaticamente il primo giorno del mese vengono fatti partire. Vengono aggiornati i sette giorni, quindi non ci sono punti da disposizione, mi viene dato una settimana di grace period per poter caricare i punti, dopodiché la macchina non spenta ma perde i servizi. Ci sono delle eccezioni, se io vado manualmente a mettere i servizi su nessuno oppure non ho punti prepagati in total remaining points, ho bisogno di aggiungere dei punti, se no la macchina ovviamente non ha alcun servizio, il cliente non si troverà i servizi attivi funzionanti. Quindi è molto importante anche la parte di flessibilità di scelta e di utilizzo perché io posso far fermare, far ripartire i servizi, il numero totale di punti non scade mai. Quindi per riopilogare acquisto un apparato MSSP, acquisto i punti prepagati, attivo l'apparato MSSP, decido quale suite assegnare per quel mese a quell'apparato MSSP e a quel punto la macchina parte, la feature key viene associata al bundle di servizi richiesto e vengono scalati i punti e così via di mese in mese. Bene, mi permetto ora di farvi vedere una dashboard, è una dashboard nostra di demo, quindi non è ovviamente in produzione da un cliente anche perché non sarebbe né lecito né giusto farlo, quindi non ci sarà tutto ma è diciamo funzionale. Vediamo un po' se è attiva. Ok, come vedete nel portale del partner WatchGarOne ci sono tante informazioni, leads, quanto è il fatturato, quanti esami ho fatto eccetera eccetera il mio stato e in più viene attivato l'MSP command che vedete qui, clicchiamoci sopra ed entro nel mio portale di gestione MSSP. In questo caso come dicevo è di demo, possiamo anche vedere come funziona. Innanzitutto abbiamo 12.000 e passa punti disponibili, questo mese ne consumeremo 665, il prossimo mese è previsto che ne useremo 665, quindi non ho bisogno di acquistare dei punti aggiuntivi. Qui ho l'elenco delle mie macchine e quanti punti sono stati assegnati, quindi ad esempio questo è il cliente ABC, questo cliente A, il cliente B, il cliente C e così via, sono le macchine che io ho dato al mio cliente il quale mi sta pagando il servizio. Posso andare in qualsiasi momento in questa modalità a cambiare il tipo di servizio, Basic Security, Standard Support per questo tipo di macchina, il quale sostanzialmente va a dedurmi i punti mensili nel caso di inizio mese oppure in questo momento, visto che è il 14 di maggio, il resto del mese, quindi la parte prorata. Facciamo cancella, andiamo su una macchina sulla quale ad esempio c'è la Total Security e qua vedete quanti punti mensili questa macchina, che è una macchina virtuale, consumerà e fino alla fine del mese quanti punti andrebbe a consumare. Ovviamente l'ammontare dei punti consumabili ogni mese varia a seconda del tipo di macchina. Nel nostro listino c'è una tabella nella quale c'è l'associazione tra i vari tipi di macchina e i punti utilizzati dallo Standard Support, dal Basic Security e dalla Total Security. Su delle specifiche macchine poi io potrei andare ad aggiungere degli add-on, ad esempio la Tree Detention Response, la quale consuma 30 punti ogni 10. Quindi oltre a TDR, il Tree Detention Response dato di default con le macchine che vi dà un certo numero di client utilizzabili, ricordo per chi magari non lo sa, il TDR è il nostro sistema di protezione dell'endpoint, è basato sulla correlazione degli eventi dell'endpoint e di network, quindi è un enorme rafforzatore dell'antivirus, chiusa parentesi, viene dato un certo numero di client, se questi non bastano posso aggiungerli come add-on e li aggiungerò qui, assegnandoli poi alle macchine di quale cliente. Torniamo nella nostra dashboard, nella nostra dashboard ho poi delle statistiche, quindi l'utilizzo di punti per trimestre, quindi io posso andare a vedere statisticamente quanti punti sono stati utilizzati trimestre per trimestre, ho l'elenco in maniera grafica delle macchine attualmente attive, quei tipi di allocazioni di servizi sono stati messi. Nella parte di settaggio io posso andare a mettere la soglia del numero minimo di punti dopo quale mi scatta l'allarme e dire a chi mandare questi allarmi, che sono i gestori della mia parte MSSP. Direi che è semplice, nel senso che non c'è molto da dire, è una gestione dinamica di quelli che sono i punti assegnati ad ogni macchina, non vorrei fare un paragone troppo semplice, ma è un po' come la ricaricabile di un cellulare. Bene, torniamo un attimino nella nostra presentazione, siamo a concludere, sono rimasto nei tempi, non vi ho tediati molto. Dunque, il programma SSP è secondo me molto importante ed è dove il futuro sta andando, il futuro sta andando verso sempre di più servizi e condivisioni. quindi l'ottica di vendere un prodotto, incassare subito, magari essere pagati un attimino con difficoltà, pagare in pieno il fornitore, si sta trasferendo invece in un'ottica dove io compro dal fornitore il minimo indispensabile e prendo dal mio cliente un canone il quale ovviamente mi consente in caso di problemi di fermare il firewall, detto in maniera molto semplice, ma soprattutto di avere un ritorno di cassa costante, fisso, con la vendita di servizi che è tutt'altra cosa che vendere dell'hardware. Io vi consiglio di andare nella nostra pagina washcar.com.mssp per maggiori informazioni e in ogni caso noi ci siamo, viviamo, siamo qui e quindi contattarci senza nessun problema a itala.washcar.com. Se avete qualche domanda o dubbio che vi è venuto da questa presentazione, prego non esitate a scriverci, come dicevo la presentazione è registrata ed è adesso a disposizione di tutte le persone che hanno partecipato, ma anche quelli che per qualche motivo non siano riusciti a partecipare. Bene, io vi ringrazio, c'è una domanda, la registro subito, non esiste una convenienza, qui bisogna essere chiari, non è più conveniente che vendere le macchine standard, ma cambia il modello, quindi se cercate di spendere il meno possibile non è la parte MSSP che vi porta questo tipo di convenienza perché sostanzialmente si equivale, quello che non si equivale è il modello di business e quindi la capacità di avere un flusso costante di denaro e la vendita di servizi, non la vendita di hardware rispetto appunto a vendere del hardware, è una filosofia un attimo diversa. Bene, vi saluto per il momento, vi ringrazio della partecipazione e vi auguro di rincontrarci di nuovo ad un prossimo webinar. Buona giornata a tutti.